Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Nuova puntata e nuova polemica al Grande Fratello. Giovedì 26 ottobre 2023 la quattordicesima diretta è stata ancora una volta piena di colpi di scena. Alla fine non c'è stato alcun eliminato. La sfida tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è finita con una vittoria schiacciante dell'attrice ed ex volto di vivere. Un bel 66% di preferenze per lei, che però è comunque andata dritta al televoto nelle nuove nomination. Che tra segrete e palesi si sono concluse con questi nomi alla fine della serata. A rischio ora ci sono di nuovo Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ma in compagnia di Grecia Colmenares, che con l'attore ha avuto l'ennesimo confronto seguito da un video che ha rivelato che cosa sia successo davvero tra l'attore e i dibaci qualche giorno fa nella notte, Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini. E la polemica che accennavamo in apertura riguarda proprio le nomination. Nel dettaglio, una frase pronunciata da Angelica Baraldi, un'insospettabile quindi visto che finora è sempre stata tranquilla rispetto agli altri. Partiamo dal principio. Quando giovedì sera è arrivato inesorabile il momento delle nomination, Angelica, con ogni probabilità, si è fatta due conti arrivando a dire a Vittorio, come riporta il sito l'All News, non mi nominare che se no vado in nomination. Non c'è finita, ma per il pubblico dovrebbe essere squalificata. In rete, infatti, molti utenti hanno iniziato a protestare, perché il regolamento del GF è molto chiaro, i concorrenti che votano in Misteri non devono informare gli altri coinquilini sugli esiti. Cosa succederà adesso? Verranno presi i provvedimenti per la concorrente? Non è dato da sapere, ma di certo le nomination al GF portano sempre tensioni. Per esempio, proprio Garibaldi ha detto, se esco io pago tutta l'Italia per farle votare contro, perché arrivo dove voglio io. Ha poi aggiunto, perché ho parenti ed amici in tutta l'Italia. Ovviamente ce l'aveva con Beatrice Luzzi.